Tutte e due, domani siamo Rebecca e Sansone Ma che novità incredibile, magari dalle 21 alle 23 Dalle 21 alle 23, in regia chi c'è? Somma! C'è Suma, domani C'è Suma, allora questa è una novità vera Va bene, grazie Chico, grazie Ale, grazie Mattia Grazie a te Rebecca, ciao, ciao, domani